buongiorno a tutti come promesso rilascio questo piccolissimo script javascript per fare il refresh automatico dei dati dell'mr 600 allora innanzitutto andate sul utilizzate come browser chrome gli altri non li ho testati so che safari non funziona per alcune particolarità usate chrome quindi siete tranquilli andate sulla pagina web del router mettete la password corretta magari se andate su avanzate avete nello stato questi dati che sono statici cioè una volta che sono caricati non cambiano più ed è parecchio scomodo per averli di nuovo deve ripigiare su avanzate potete fare un refresh a mano così se magari stato puntando un'antenna state facendo delle prove non avere il refresh automatico è un po scomodo per questo motivo ho fatto questo script in andate sull'indirizzo che vi lascio sotto in descrizione mi raccomando sempre disattivate il traduttore perché capace che una volta che andate a visitare questa pagina vi traduce le parole in inglese praticamente non funziona più niente quindi il traduttore disattivato selezionate tutto facendo controlla e poi contro il c oppure comanda con manci quindi così così una volta che copiato andate nei preferiti di chrome questo l'ho salvato un po di volte adesso vediamo questo lo tagliamo quindi andate nuovo preferito aggiungi barba trucco e incollate il codice che avete appena copiato salvate a questo punto dovete semplicemente richiamarlo da questa pagina fate andate sui preferiti adesso non si vede vi assicura che io lo sto richiamando in questo istante a questo punto inizia a fare così quando vedete il puntino è perché sta interrogando il mondo non sempre cioè risponde piuttosto lentamente ma questo è una peculiarità del tp link e non possiamo farci nulla però vi assicuro che ogni tanto lui si rinfresca avete un'idea potete vedere anche quando sta aggregando più di una banda e vi elenca quale bande che sta utilizzando purtroppo non ho potuto creare niente di più complesso per vedere a quale bts si collega perché purtroppo il router in questione non ci fornisce il cell id peccato spero vi sia utile che sia tutto chiaro se avete dubbi scrivetemi sotto un saluto a tutti ciao 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 ciao